Giuseppe Cicala, Nando Ardita, Michele Portagallo, grazie per il coraggio, grazie per il coraggio che riuscite non solo a dimostrare ma che permette a chi vi parla di averne altrettanto anche quando in certi momenti lo sconforto può anche prendere, anzi prendere, è un fatto assolutamente umano ma è quel coraggio che voi stessi avete dimostrato di possedere che ci permette sempre di essere fiduciosi in quello che sarà un grande risultato, un risultato enorme per questa città, lo vedo nei vostri occhi, siamo convinti di quello che stiamo facendo, siamo convinti di quelle che sono le nostre programmazioni, i nostri modi di fare, il nostro modo di porsi, noi ci forgiamo diversamente dagli altri, siamo un'altra cosa, siamo diversi, siamo la parte buona!